Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. I fatti di cui vi parlo risalgono al 27 ottobre 2013. Una donna residente nel pieno centro di Cassino, nel Frusinate, consapevole del fatto che i furti e le rapine sono all'ordine del giorno, aveva messo ben 175.000 euro, ossia i risparmi della famiglia, in una busta, all'interno di un'altra. Che conteneva beni di prima necessità tra cui sale, zucchero e farina. Sicuramente se qualche malintenzionato avesse fatto irruzione nell'abitazione, non avrebbe certo potuto pensare che, in una normalissima busta di plastica, ci sarebbe potuto essere un vero e proprio tesoretto, frutto di anni e anni di sacrifici. Purtroppo non sempre tutto va secondo i piani. La legittima proprietaria di tutto quel denaro, per poter effettuare delle pulizie meticolose delle stanze della sua casa, ha pensato bene di mettere fuori al balcone il superfluo. Forse, per un attimo, non ha badato alla fortuna contenuta nella busta. Un gesto meccanico, quello di trasferirla provvisoriamente sul balcone, che le sarebbe potuto costare caro. La busta, non si sa come, ha fatto un volo, precipitando rovinosamente sul manto stradale. Per fortuna, non è finita nelle mani di ladri, ma di una signora di buon cuore, una 53enne, che l'ha portata immediatamente presso la stazione locale dei carabinieri. Gli agenti hanno ascoltato attentamente il racconto del ritrovamento del denaro, da parte della passante. La donna ha affermato di averla notata, di essersi avvicinata e di averne visto il grande contenuto. Ma tutto questo ben di Dio non le ha fatto passare in secondo piano il suo modo d'essere rispettoso degli altri. Così, senza pensarci su due volte, si è recata dai carabinieri di Cassino, affinché chi l'avesse smarrita, potesse finalmente riottenerla. Attraverso delle indagini si è potuti risalire alla legittima proprietaria dei 175.000 euro. Una ottantenne rimasta da poco vedova. I carabinieri, diretti dal tenente esposito, hanno restituito il denaro alla povera donna che, imprudentemente, lo ha esposto ad un rischio non indifferente. Quello di veder persi per sempre i risparmi accumulati, con sacrifici, in una vita.